sì amici di radiocop si inizia una nuova settimana buon lunedì a tutti e benvenuti come sempre a tre minuti con radiocop iniziamo questa puntata con una nuova rubrica dal titolo saluta il socio e allora salutiamo il socio Giovanni della copp di Fusignano in provincia di Ravenna ciao Giovanni se volete mandare dei saluti potete farlo scrivendo a redazione chiocciola radiocop.it iniziamo subito però con il nostro Carlo Maffini vai Carlo oggi sono in vena di relax nel vero senso della parola e vi propongo due nuove uscite molto easy listening giuste giuste per un rientro soft dalle vacanze la prima novità in realtà uscirà in autunno segnatela sul calendario ed è l'album per la nostra etichetta musicale radiocop little sway di Chris Cochrane una giovane cantautrice folk che abbiamo scovato in Canada e abbiamo adottato per così dire Chrissy ha una voce magnifica e propone brani che ricordano i classici di Baccarat dolci melodie perfette perché mancano 100 giorni a Natale a proposito di voci magnifiche il secondo disco che vi presento appena uscito è il nuovo di Paul Carrack These Days l'inglese già negli Ace Roxy Music e Mike and the Mechanics ci offre brani pop soul e reggae molto piacevoli con il contributo di eccellenti musicisti come Robbie McIntosh chitarrista fra gli altri di Paul McCartney il batterista Steve Gadd e il sassofonista di James Brown P. Willis Wonderful e beh questo era un omaggio a Bob Dylan e ora Tony Baciocchi vai Tony ciao a tutti vi parlo oggi inizialmente di questo libro si chiama Lambrusco e Pop Rock è stato scritto da diversi autori e l'idea bella è che sono tutti brani che parlano di Emilia di Emilia Romagna quindi da Rimini di De Andrè di brani di Vasco Rossi del Liga dei Nomadi ma di anche tantissimi altri gruppi meno conosciuti e invece adesso parliamo un po' di musica sono usciti tre album contemporaneamente da parte dei tre Paul per eccellenza il primo è Paul McCartney Egypt Station conferma la sua classe incredibile c'è poco da dire è uno dei più grandi autori compositori di tutti i tempi e questo album è una nuova riprova Paul Weller True Meanings è un album atipico nella sua produzione perché è quasi prevalentemente e quasi esclusivamente acustico con molti arrangiamenti di archi e ancora anche in questo caso ci conferma la sua classe compositiva e infine Paul Simon che ha abbandonato, sta abbandonando in questi giorni la scena live per dedicarsi esclusivamente ai lavori in studio riprende alcuni suoi brani meno conosciuti li rivisita in chiave Jazz Blues con l'apporto di jazzisti pazzeschi come Bill Friesel o Winton Marsalis ciao a tutti bene anche questa puntata termina qui e come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento a lunedì prossimo come sempre con 3 minuti con Radio Coop ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti